9 agosto 2024 profezia di un'intensificazione della guerra tra Ucraina e Russia e ricordate io ho visto quella guerra anche la sua intensificazione io ho dato la profezia di quella guerra della guerra in Ucraina che state vedendo e sta accadendo ed è una seria guerra globale io ho visto il prossimo livello dove Russia lancerà le bombe e sparerà i missili e colpirà la Francia il paese principale d'Europa e tra i 3 e gli 11 secondi la bomba colpisce anche la Gran Bretagna l'isola e quando la bomba colpisce la Francia si diffonde orizzontalmente consumando la Germania e quelle nazioni e mi è parso che erano bombe nucleari e quindi questa guerra sarà di certo grave grazie a tutti Grazie a tutti.